L'obiettivo è guardarsi all'interno del comune per dire anche qua c'è possibilità di lavoro, anche qua posso acquisire le mie skills sia settoriali che trasversali e soprattutto il comune mi mette nelle condizioni di potermi orientare, informare e formare per quanto riguarda il mio post diploma, per sapere quali sono le possibilità che ho all'interno della mia città e quindi creare una sinergia fra le associazioni, le aziende, i giovani professionisti che animano questo territorio perché molto spesso si parla sulla base di una percezione che non corrisponde sempre alla realtà, quindi noi vogliamo intanto far conoscere quello che esiste e sulla base di quello fare orientare i giovani. Quali gli ospiti che ci saranno? Vari ospiti fra cui Fabiana Manager, la zia dell'orientamento, così si definisce, Francesco Giano che collabora con varie testate come Repubblica.it, Will, quindi un divulgatore sul digital journalism, ma poi avremo anche Branchetti, il volto della melevisione che ci racconterà come funziona dietro le quinte, qual è stato il percorso per esempio che lui ha fatto, ma ancora avremo vari messinesi che vivono ancora in città, ma anche vivendo fuori, non vogliamo dimenticarci di loro, di quello che hanno realizzato, quindi la città, l'amministrazione rivolge lo sguardo verso tutti i nostri giovani che nel tempo possono essere d'ispirazione ed esempio per i più piccoli. Assessora, lei ieri ha dichiarato che l'obiettivo è quello di far rimanere qui in città i tantissimi giovani, a tal proposito il nostro lettore ha così commentato, per l'assessora sicuramente è stato possibile rimanere a Messina, non è così per tantissimi ragazzi e per tantissime ragazze, sarebbe opportuno riflettere prima di sparare le grosse, come risponde? Rispondo appunto che è l'obiettivo, non ho detto che è un obiettivo raggiunto, ma sicuramente quello che abbiamo cercato di fare attraverso anche l'assessorata alle politiche giovanili, e consentitemi, penso non sia mai stato fatto, è quello di rivolgere lo sguardo anche all'acquisizione di competenze, sia trasversali che settoriali, mettendo in rete i giovani con quello che è il tessuto socio-economico della città, anche per poter permettere di avere più opportunità o comunque di conoscere le opportunità che esistono. Non ho detto che è un obiettivo facile da raggiungere, ma sicuramente ci stiamo lavorando affinché appunto anche il comune possa orientare e informare i giovani sul post-diploma e insieme soprattutto cercare di creare quell'incontro fra domanda e offerta, non tralasciando quelli che sono i sogni e gli obiettivi dei nostri giovani. Ed eventualmente per il post-laurea la prima amministrazione ti sta portando anche avanti per i giorni laureati. Sì, anche perché Young May Days non è solo una semplice iniziativa, ma rientra in un progetto più importante finanziato dai cosiddetti POM Metro Plus 21-27, dove avremo un vero e proprio accompagnamento al lavoro. Quindi oltre alla parte di formazione, dove si avrà un contatto con le aziende, quindi la cosiddetta formazione on the job, al contempo si avrà la possibilità di avere dei finanziamenti sull'autoimprenditorialità, ma anche sull'avvio di start-up. Però per fare questo vogliamo dare anche gli strumenti per poter presentare le loro proposte. Proprio per questo non ci limitiamo a prevedere dei finanziamenti, ma faremo un percorso insieme ai nostri giovani affinché poi questo si traduca in un qualcosa di concreto che duri nel tempo. Grazie.